La Samp ha ripreso questa mattina gli allenamenti dopo l'ottimo pareggio di ieri in casa della Juve. Diverse le novità per quanto riguarda il notiziario. Rientrano in gruppo Accardi, Bellucci e Campagnaro mentre migliorano le condizioni di Pazzini dopo il presunto guaio alle ossa del setto nasale ipotizzate ieri al termine di Juventus-Sampdoria. Buone nuove arrivano anche da Lucchini che questa mattina ha lavorato con i compagni. Meno ottimismo invece per Del Vecchio, Gassaldello e Raggi, tutti ai margini del gruppo. Del Vecchio è alle prese con l'infortunio rimediato a Verona 15 giorni fa, mentre Gassaldello e Raggi testano le proprie situazioni all'alba dei fastidi subiti ieri all'Olimpico. Per il difensore Veneto distorsiona la caviglia e certamenti clinici da effettuarsi fra oggi e domani. Esclusa la sua convocazione per la partita di mercoledì contro il Metalist, esclusa anche la presenza di Del Vecchio ancora out. Si valutano invece le possibilità di vedere fra i disponibili Andrea Raggi, il quale si è sottoposto stamattina a fisioterapia dopo la botta al ginocchio per via della quale lo spezzino è stato costretto ad abbandonare il campo ieri. La Sampdoria si ritroverà al Mugnaini domani per preparare il match di andata dei sedicesimi di Coppa UEFA in programma Marassi, come detto, mercoledì sera. Sempre nel pomeriggio di domani, sempre al Ferrari, sconferenza stampa di Walter Mazzari fissata per le ore 18. Qui farà seguito l'incontro con i giornalisti tenuto dall'allenatore degli ucraini Miron Markevic. Intanto la Samp si gode i benefici del punto conquistato ieri all'Olimpico di Torino. I più cerchiati, finalmente aiutati dagli episodi favorevoli, sono passati in vantaggio con Pazzini al nono minuto. L'attaccante, al terzo centro consecutivo in campionato da quando veste la maglia della Samp, ha sfruttato un grande assist di Cassano battendo Buffon in apertura di gara. Poi la reazione della Juve che ha colpito un palo, una traversa con Nedved nel primo tempo ed un palo traversa con Del Piero nel secondo tempo. In mezzo al pareggio di Amauri, giunto nella prima metà della ripresa, che ha fissato definitivamente il punteggio. Da segnalare anche un palo colto dai Doriani con un cross di Cassano deviato sul legno da un difensore juventino all'inizio secondo parziale. Come raccontato in apertura, prosegue però l'emergenza in Fortuni. Anche ieri Mazzari ha dovuto rinunciare in corso d'opera a tre elementi. Raggi, Gasteldello e Cassano hanno costretto il tecnico della Samp ad effettuare sostituzioni, che potevano complicare l'andamento di un match comunque ben condotto a livello mentale da Palombo e compagni, sempre attenti e concentrati fino al tripice fischio di Orsato. Buone anche le prove di Dacosta e Ferri, i due nuovi, subentrati nel momento forse più difficile della partita. Bene anche Ziegler che ha sostituito Cassano ad un quarto d'ora dalla fine. Chiudiamo col torneo di Viareggio che vedrà la Samp di Pea protagonista domani nell'ambito degli ottavi di finale. Dopo aver vinto il girono eliminatorio a punteggio pieno, Marilungo e compagni tenteranno di proseguire l'avventura nel mondialito per giovani, avversario alla rappresentativa di Serie D che ha chiuso seconda a sei punti nel gruppo di appartenenza. L'ottavo di finale in gara unica si giocherà domani alle ore 15 a Rosignano.